Siamo qui con Enrico Vidoni, neurologo e vicepresidente del Comitato DSA Lavoro di AIT. Iniziamo subito con la prima domanda. Qual è la situazione attuale dei lavoratori con disturbi specifici dell'apprendimento e quali sono le maggiori criticità? Non si può generalizzare sulla situazione dei lavoratori, delle persone che hanno un DSA nella condizione lavorativa, perché ci sono molti che, nonostante il DSA, si hanno scelto un lavoro in cui riescono a esprimere le proprie potenzialità, in cui certe funzioni che per loro sono critiche come la lettura e la scrittura sono meno importanti e meno richieste, ecco che allora possono farcela e avere anche una vita professionale molto soddisfacente e di successo. In altri casi invece, purtroppo devo dire che oggi, visto che in molti lavori è necessario fare delle attività di lettura e scrittura continuamente, ecco questo può mandare in crisi la persona con DSA che ha difficoltà a organizzarsi, ha dei tempi lunghi per fare le cose che non vengono capiti dai colleghi di lavoro o dai datori di lavoro, per cui questo crea tutta una serie di equivoci e una situazione di disagio e di sofferenza a volte anche molto grave. Quindi, insomma, diciamo che abbiamo delle situazioni che vanno da un estremo all'alto, con tutte le possibilità di situazioni intermedie. Certamente coloro per i quali nel posto del lavoro ci sono delle difficoltà importanti che non vengono capite, che non vengono adeguatamente supportate, avrebbero bisogno in qualche maniera di una qualche forma appunto di aiuto, di supporto o di garanzia che sia possibile per loro avere tutte le opportunità di sviluppare le proprie capacità. In che modo l'istensione dei diritti della legge 170 potrebbe migliorare la situazione nell'ambito della dislessia nel mondo adulto, soprattutto per quanto riguarda magari anche i colloqui di selezione, i concorsi pubblici? Guardi, la legge 170 si occupa principalmente, quasi esclusivamente direi, del mondo scolastico, c'è l'estensione all'università, però non è stato pensato tutta una serie di momenti di passaggio dalla formazione universitaria all'inserimento lavorativo e quindi questa è una lacuna notevole di questa legge che dovrebbe essere in qualche maniera sanata e quali sono i punti critici fondamentali? Innanzitutto nei concorsi pubblici bisognerebbe assicurare la possibilità di utilizzare gli strumenti compensativi o le misure dispensative, il tempo in più, ma anche a volte la possibilità di sostituire una prova scritta con una prova orale. Oltre a questo dei concorsi pubblici attualmente è possibile solamente in alcune regioni italiane che hanno prodotto una legge specifica sui DSA, cosa che riguarda però solo una parte delle regioni e dovrebbe essere generalizzata ovviamente a tutta la nazione. Altri punti critici sono il problema dell'inserimento lavorativo e delle procedure in generale di selezione anche nelle aziende private. Attualmente le prove che vengono utilizzate per la selezione dei candidati spesso non hanno nulla a che fare con le abilità che saranno poi successivamente richieste loro nel lavoro che svolgeranno e sono prove che alla fine risultano spesso discriminatorie perché tagliano all'origine la possibilità che un candidato con un DSA riesca a superarle nel momento in cui magari c'è da rispondere a una serie di quiz, per esempio, in un tempo molto ridotto. Anche i colloqui dovrebbero essere eseguiti con delle modalità che noi definiamo dyslexia friendly, cioè amichevoli accoglienti nei confronti della persona che potrebbe avere un disturbo specifico di apprendimento. Per questo motivo è stata presentata già nella precedente legislatura e poi anche in quella attuale un progetto di legge che prevede dei provvedimenti in questa direzione. Un altro punto critico è quello di tutte quelle prove di valutazione che sono necessarie per esempio per accedere ad una determinata professione, le prove di abilitazione professionale, che siccome non sono chiaramente esplicitate e citate nelle linee guida del Ministero dell'Istruzione e di applicazione della legge 170, a volte in queste prove non è permesso l'uso di strumenti compensativi, per esempio anche per iscriversi a un albo professionale come quello degli avvocati o dei medici, ci sono da superare degli esami e attualmente non sempre viene assicurata la possibilità di avere misure di supporto, nonostante che il candidato abbia avuto invece nel suo percorso scolastico e nel percorso universitario la possibilità di avere questi strumenti. L'importante sarebbe che poi questi strumenti fossero assicurati davvero quindi che ci sia la garanzia della loro applicazione perché attualmente non è così, cioè i bandi di concorso di solito non prevedono delle misure di supporto per le persone con DSA e se queste misure di supporto non vengono date non c'è nessuna possibilità di fare dei ricorsi in appello o in qualche maniera iniziare delle azioni legali. Bisognerebbe che già all'origine fosse assicurata con delle sanzioni riguardo alla validità dei bandi e questo è specificato nella proposta di legge che è stata presentata al Senato qualche tempo fa. Un altro problema critico è la possibilità che per le persone adulte con DSA ci siano dei servizi diagnostici adeguati, cosa che attualmente nella realtà italiana è estremamente carente. Infine uno degli elementi su cui bisogna pure avere delle garanzie è che questa diagnosi in soggetti adulti sia valida una volta per tutte, non ha senso che ad ogni concorso, ad ogni bando, ad ogni esame che uno incontra nella vita debba di nuovo fare una certificazione, una valutazione diagnostica e questo ovviamente si può ottenere anche qui con un progetto di legge. I progetti di legge purtroppo hanno dei tempi di esecuzione molto, di attuazione molto lunghi. Sappiamo che già per la legge 170 abbiamo messo quasi otto anni per arrivare all'approvazione e quindi un'altra via ed è quella che ho visto che recentemente è stata portata avanti è quella di introdurre dei correttivi, degli emendamenti in altri provvedimenti legislativi sotto forma di emendamento, cosa che ovviamente dovrebbe essere un percorso che è molto più rapido perché mentre si sta approvando un'altra legge in qualche maniera che permette di collegarsi alla legge 170 si possono introdurre questi emendamenti. Speriamo che questa sia una via di uscita per dare rapidamente una soluzione a questi problemi che si trascinano da tempo. Quali sono le azioni che si possono interprendere in concreto per cercare di migliorare il panorama attuale? Abbiamo la necessità nel modo del lavoro di avere un cambiamento di mentalità, un cambiamento di cultura soprattutto. Noi con la Fondazione Italiana di Sglessia da prima e poi con le attività del Comitato DSA, lavoro dell'Associazione Italiana di Sglessia, ci siamo occupati di questa problematica e abbiamo visto che uno dei problemi principali è che sui posti di lavoro, nelle aziende, i datori di lavoro o le persone che si occupano della gestione del personale non hanno quasi nessuna conoscenza del tema DSA o quando conoscono la parola dislessia DSA, di solito la conoscono con dei significati non corretti, nascono degli equivoci veramente terribili per certi versi e allora si possono fare tante cose, bisogna appunto fare dell'informazione e della formazione nei confronti delle aziende e del mondo del lavoro in generale. Bisognerebbe agire a molti livelli, quindi sono necessari dei progetti di lungo periodo e che siano abbastanza complessi da coinvolgere molte componenti nel mondo di lavoro. Noi negli ultimi anni abbiamo attivato in qualche maniera delle attività di questo tipo perché ci sono stati dei progetti come il cosiddetto Dyslexia Progress for Work che è un progetto che si è occupato di entrare proprio nelle aziende e di effettuare delle attività di formazione nei servizi di gestione delle risorse umane e del personale dell'azienda. È un progetto ovviamente a cui l'adesione volontaria hanno aderito per ora solo poche aziende a livello nazionale, alcune però anche di grande impatto per il numero di dipendenti che hanno e in queste aziende si è cercato di creare una cultura sul tema Dyslexia e DSA e contemporaneamente modificare le pratiche con cui si effettuano le attività di arruolamento, di selezione del personale e poi di inserimento proprio nel mondo del lavoro e anche poi dello sviluppo professionale perché il lavoratore che è stato assunto poi deve essere messo in grado di dare il meglio delle proprie possibilità e questo significa dargli anche la possibilità di lavorare in una maniera diversa con degli strumenti ad hoc che tendano conto di quali punti deboli ha nel suo funzionamento e che quindi lo aiutano appunto per realizzare le proprie capacità. Ho citato il Progress for Work, c'è un altro progetto portato avanti anche adesso dal Comitato DSA Lavoro dell'Associazione che si chiama Dyslexia at Work e questo è un progetto rivolto invece ai singoli lavoratori o ai singoli candidati DSA che attraverso anche qui iniziative di formazione vengono ad essere messi in grado di riuscire meglio a sviluppare le proprie capacità valorizzando i propri talenti, la propria consapevolezza del proprio modo di funzionare e quindi insomma una serie anche di informazioni pratiche su come si scrive un curriculum quali sono le cose su cui bisogna puntare per valorizzare le proprie competenze e così via. Recentemente è stato attivato anche un progetto europeo su queste tematiche del lavoro un progetto europeo che coinvolge cinque paesi tra cui l'Italia che è stata anzi l'Associazione Italiana di Dyslexia è stata anche proprio il soggetto promotore di questo progetto europeo in cui sono state raccolte tutte le informazioni relativamente al mondo del lavoro e alle normative per i DSA nei diversi paesi europei e adesso è in corso anche una ricerca in cui si fanno delle interviste nelle aziende e nei servizi di avviamento al lavoro nei servizi per l'occupazione a secondo dei paesi ovviamente hanno configurazioni diverse per vedere appunto qual è il livello di conoscenza e il livello di accoglienza nei confronti delle persone con DSA praticamente proprio nella realtà di questi paesi. Ci sono altri progetti in giro per esempio sempre la nostra associazione ha partecipato ad un bando del Ministero del Lavoro che praticamente prevede un progetto anche piuttosto complesso che potremmo dire che è quasi la sintesi dello storico delle esperienze che sono state accumulate in questi ultimi pochi anni di attività sul tema lavoro ed è un progetto che dovrebbe svolgersi su tutto il territorio nazionale rivolgendosi sia ad aziende sia alle università sia anche alle realtà locali, territoriali dell'associazione italiana di dislessia in modo da creare appunto una azione sistemica che riguarda tutti i territori a diversi livelli della società. Quindi questo se si riesce a farlo ovviamente Covid permettendo purtroppo abbiamo anche questa difficoltà che ci ha complicato la possibilità di svolgere le cose, però insomma questo può essere un provvedimento importante. L'altro provvedimento importante è quello che ho già citato, cioè il fatto di riuscire ad avere delle norme che in qualche maniera garantiscono alle persone DSA pari opportunità e una non discriminazione per quanto riguarda i processi di inserimento al lavoro e di poi sviluppo delle proprie capacità sul lavoro. Quindi la legge di modifica, la legge 170 o altri provvedimenti simili. Ringraziamo per aver risposto a tutte le nostre domande e ringraziamo tutti voi per l'ascolto. Ringraziamo per aver risposto a tutte le nostre domande.